Si è svolto oggi, presso l'auditorium dell'Istituto Colla Santo di Andrea, un incontro in cui le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche della città si sono confrontate col dirigente scolastico, lo staff, i referenti e le funzioni strumentali dell'Istituto. Lo scopo è stato quello di predisporre insieme il piano triennale dell'offerta formativa per il triennio 2019-2022, così come è auspicato dalla legge 107. Questa è stata veramente un'occasione straordinaria per elaborare strategie comuni finalizzate all'erogazione di un servizio sempre più rispondente alle esigenze della società. Da molto tempo lavoriamo con associazioni, enti, col comune, con la provincia, con la regione. Il problema è che finora si è trattato di interventi non istituzionali, non organizzati, senza una precisa tabella di marcia. Invece abbiamo voluto adesso chiamare all'accolta tutti gli enti, istituzioni, associazioni, anche religiose, perché crediamo nel fatto che bisogna lavorare insieme per costruire un progetto di offerta formativa valido per tutta la città. Come ha ribadito il Preside, negli ultimi anni l'Istituto Colasanto è stato sempre in contatto con istituzioni e associazioni del territorio. Come testimoniano anche le numerose iniziative promosse in vari ambiti, dall'educazione alla legalità, alla difesa dell'ambiente, dalla lotta contro la violenza di genere, alla diffusione della cultura, dell'arte e del teatro. Eventi che hanno avuto anche notevole risonanza all'esterno della scuola. In questo momento quindi si è deciso di istituzionalizzare questo rapporto col territorio, dando particolare importanza anche alla Chiesa, che è intervenuta nella figura del Vescovo Manzi. In questo caso la Chiesa Cattolica, nella persona ora del Vescovo, svolge un importantissimo ruolo. E però c'è bisogno quindi comunque di fare rete anche con la realtà scolastica? Come no? Certamente c'è bisogno di fare rete, c'è bisogno di creare delle sinergie, di creare delle collaborazioni, c'è bisogno di ascoltarsi, come diceva molto bene prima il Preside. E noi ascoltiamo la scuola, la scuola ascolta noi a tutto beneficio del tessuto sociale della città. E aiutare i giovani, siamo in una scuola, aiutare i giovani ad aprire gli occhi e a rendersi conto. della città in cui vivono, dei suoi problemi e ad entrare nella realtà sociale man mano che crescono, ad entrare con la voglia, una sola voglia, quella di migliorarla, quella di renderla più bella, più ricca, più rispettosa degli uomini e delle persone.